guardate padre laggiù cos'è quello se è un burattino dove sono i fili sei un burattino non hai mai mangiato niente nella vita ehi prova ad avvicinarti al fuoco ti riscalda il progetto militare l'italia per la speciale gioventù patriottica pinocchio pinocchio si cosa intendeva dire mio padre su quegli aeroplani ci prepariamo a essere soldati per la guerra la paura della guerra no mio padre dice che se hai paura di morire per la patria sei debole vedrà che non sono un codardo farò in modo di piacere tu hai paura di morire sei davvero strano sono felice che tu sei entrambi qui perché abbiamo vinto entrambi padre questa è una pistola vera no stavolta non ve lo permetto da tutta la vita padre provo a compiacervi ma non ci riuscirò mai avete ragione sono esile e debole e fragile come il lucignolo della candela ho sempre paura ma nonostante il terrore che sento riesco a dirvi di no questo posso farlo non ho paura a dire no e voi